Ciao a tutti ragazzi, siamo venuti in questa nuova recensione non su RG2, ma bensì su Dragon Ball RG2, sempre per Xbox 360 PSD e due console HD e qui parleremo infatti delle modalità e dei gioco Sting che ha questo RG2. Partiamo quindi dalle battaglie che ci sono in questo contenuto del gioco, praticamente qui in queste battaglie potremmo combattere contro battaglie singole, contro le squadre e sempre sconto di potenza e così. Di cui ci divertiremo se anche le mappe sono belle, i personali sono 70 e così oltre anche delle sfumazioni. E soprattutto dire che anche la collezione dopo la battaglie del drago che è la nuova modalità storia, non è un camara così, è molto anche lei, molto evoluta dagli altri Budokai Tinkaici, ma non tanto evoluta da RG2. Praticamente qua, la RG2 è così, vogliamo dirla, questo RG2 è molto, ha delle tecniche molto avanzate anche lui, è una tecnica molto buona, si vedeva bene anche la, praticamente come possiamo dirla, la grafica è molto bene analizzata. Praticamente possiamo dirla anche la camera, la videocamera è bene, va bene molto, ma però spesso potrebbe anche, può anche, come dire, può anche perdere di vista l'avversario o proprio personaggio. E se vogliamo chiamarlo così, la battaglia del drago, se anche loro, se hanno delle grafiche molto avanzate e quindi potrebbero bloccare i nostri personaggi. E per dire di più, qui potremmo avventurarsi, non nelle missioni di realizzare gli autori, ma proprio la modalità storia, però se sono tanti personaggi perché sono gli autori del gioco, hanno inventato i vari personaggi. Tipo, quali, eh, quali, eh, quale, eh, vegeta supercentra e prole supercentra, che quali sono i vari personaggi che sono stati inventati gli autori del gioco. E andare avanti, ipoteticamente, andremo in Xbox Live, potete andare, portare gli Xbox Live, andare contro online, contro altri vostri amici, oppure altri, proprio da tutto il mondo. Oppure, che ne so, andare pure in modalità personalizzata a tavola, dove potete personalizzare la forma estetica del vostro personaggio, oppure anche gli attacchi e gli oggetti del vostro personaggio. Praticamente, il vostro personaggio preferito, altro personaggio. Questo Raging Blast, potremmo sapere, praticamente, da quasi tutto, è il nostro gioco preferito. E per che dire, anche delle torne mondiale, ne ho chiamarlo così, torne mondiale, anche quello ha fatto molto, prescindere da, non possiamo dire, anche qua, del torne mondiale, come Raging Blast, Raging Blast 2, questo Raging Blast, il torne mondiale, anche qui, ha la tecnica avanzata, potrete anche personalizzare, avversari, e mettendo normale, forte, molto forte, debole, molto debole, e qualcosa di genere. Qui non farò da molto tempo, lo farò solo da pochi minuti. La mia seconda accensione è la mia seconda accensione, perché io non so fare ancora bene. Dopo, vedrò bene come si fa, beh, non vederò bene, va bene, poi vedrò. E poi, la, le opzioni, musei, cioè, praticamente, musei, qui, parleremo dei musei, per, come potrete vedere, i filmati, i replay salvati, le immagini, e tutto. Ma, praticamente, quello che manca qui, quello che manca, quello che manca, praticamente, è il film, il film, che è solo in Raging Blast 2, che è il Raging Blast 2, non qui, questo Raging Blast, perché no, non lo metterà, però, il film, un film, no, perché qui non ci sono ancora abbastanza personaggi, e, in Raging Blast 2, non guardate ancora i personaggi, sono Aciak, e Talbot, che sono i due, due personaggi, nove personaggi. Le persone, le opzioni, non per ridicoli, le opzioni, però, praticamente, il gioco ha buone, le affidità, le tecniche, le grafica, praticamente, anche il sonoro, le musica sono abbastanza belle, ma, diciamo, sì, abbastanza belle anche quelle. Se volete sapere di più nella mia recensione, è più bello, contattatemi, o iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutto, aiutateci a tutti, e grazie per questa recensione. Grazie a tutti. Grazie a tutti.